Allora prendete una foto in bianco e nero da internet oppure desaturatela, non lo so fate voi. Per colorare solo alcune zone della foto andiamo a vedere come si fa. Intanto duplicate il vostro livello base. Cominciamo dagli occhi, scegliamo un bel verde, quello qua, e quindi cosa fare adesso? Riempiamo di verde il livello duplicato. Con CS4 bisogna invertire e cliccare a questo punto dai metodi di fusione cerchiamo quella che più c'è grada. Ok adesso andate in livelli, maschera di livello, hide all, ed eccoci qua. Poi cercate un pennello spumato, lo riduciamo, ecco, zoomiamo, e gli occhi sono fatti. Adesso passiamo alla pelle. per la pelle ci vuole un colore colorcato. Pregate di nuovo il livello, e lo riempite. Poi vediamo se il colore va bene. Pregate di nuovo il livello. Pregate di nuovo il livello. qui ci potremmo essere. Quindi di nuovo, layer, layer mask, hide all. Selezionate il pennello. questa volta lo ingrandite un po' di più. E iniziate. naturalmente se poi il colore non vi aggrada, come sta succedendo a me in questo momento, che non è molto naturale. Possiamo anche... o al massimo agiamo in seguito con la saturazione o qualcos'altro. Adesso le labbra. le labbra. Quindi di nuovo duplichiamo. Un rosso abbastanza vivo. e riempiamo. Risulta così solo perché sta in basso. e poi lo sposto. Ecco. Allora. Anzi no. Lasciamolo qua. e spingiamo gli altri. Adesso... andiamo al metodo di diffusione. direi che questo pond... quindi layer... layer mask, hide all. prendiamo di nuovo il pennello. prendiamo di nuovo il pennello. quindi a questo punto direi che... è la pelle... che non mi piace molto. quindi proviamo... quindi proviamo... a fare così. che colore è quello che ci sta meglio. direi che ci siamo. a questo punto uno potrebbe anche... unire tutto... e cercare... e cercare... eh... niente male, no? originale... originale... colorata... e cercare...